Questo è un momento bellissimo per l'Italia e anche per quelle zone come la Terra dei Fuochi che hanno un inquinamento pazzesco. Finalmente chi inquina rischia fino a 20 anni di galera. Noi questa legge la dedichiamo alle mamme della Terra dei Fuochi. Tutte le associazioni, Legambiente, Libera, WWF hanno riconosciuto che senza il Movimento 5 Stelle, senza la legge di Salvatore Micillo, deputato della campagna del Movimento 5 Stelle, non saremmo mai riusciti ad ottenere questo risultato. In campagna Terra dei Fuochi, in Puglia, l'Ilva, quali sono le possibilità e i reati che si possono configurare grazie a questa nuova legge? Finalmente chi deposita scorie radioattive, chi deposita rifiuti tossici, chi li interra, chi li incendia, potrà pagare con la galera. Fino ad ora c'era solo una multa in divieto di sosta. Questa legge era a prima firma Salvatore Micillo, era del Movimento 5 Stelle. In soli due anni abbiamo fatto quello che il Parlamento non ha fatto in vent'anni.